Ciao a tutti e benvenuti nel canale, in questo video voglio parlarvi in anteprima di Marvel's Avengers dopo che ho avuto la possibilità di provare la beta su PS4. In questo video vi illustrerò tutto quello che c'è da sapere o meglio tutto quello che offre la beta. Partiamo dal menu principale dove avete la possibilità di ovviamente giocare, consultare le news, in questo caso visto che la beta ci viene espressamente detto che avete la possibilità di sbloccare delle ricompense per Fortnite e per il gioco stesso ovviamente. E poi c'è il negozio. Tranquilli non ci sono le microtransazioni, non dovete sborsare assolutamente un centesimo perché tutti i contenuti che sono presenti nel negozio che varia ogni mese possono essere ottenuti con la valuta giocando. Quindi non dovete acquistare nulla. Potete sbloccare i mot, vestiti, fumetti e quanto altro ancora. Detto questo partiamo con il gioco e diciamo vi illustro a grandi linee un po' di cose. La beta permette di giocare quattro livelli della campagna principale e praticamente infinite missioni secondarie che si differenziano per tipologia come ad esempio elimina un bersaglio, difendi delle zone e così via dicendo. E portando a termine le varie missioni si ottengono ricompense più o meno alte a seconda del livello di difficoltà. Possono essere completate in singolo o in cooperativa online o con l'aiuto dei bot. Ora, la beta ha dei caricamenti un po' lunghetti a dire il vero su PS4 Pro, però per il resto non ci sono problemi di cali di framerate e quant'altro. Allora, questo è il tavolo strategico da dove potete accettare nuove missioni sia per la storia sia missioni secondarie che si suddividono in scenari. In ogni scenario vi sono diverse missioni da portare a termine. Per quanto riguarda le missioni storia sono quelle predefinite, mentre per quanto riguarda le missioni secondarie variano diciamo di tempo in tempo, quindi man mano che passa tempo nel gioco troverete nuove missioni o vengono sostituite quelle diciamo che non avete completato, quelle vecchie. Ora, premendo il touchpad avete la possibilità di accedere a questa schermata dove ci sono gli obiettivi da portare a termine. Ora, qui c'è soltanto quello riferito alla campagna, ma nella versione finale ne troverete molti altri. Poi ci sono le sfide dove avete la possibilità di consultare varie sfide da portare a termine per ricevere delle ricompense. In abilità invece vi sono quattro rami di abilità che variano di personaggio in personaggio, il che significa che se spendete i punti per sbloccare ad esempio tutte le abilità di Iron Man, ciò non significa che le avete anche per Hulk, quindi dovete spendere i punti abilità individualmente. Quindi ogni eroe ha le sue abilità suddivise in attacco leggero, pesante, distanza e poi ci sono le abilità particolari. Quindi, diciamo, accumulando esperienza e salendo di livello avete la possibilità di spendere i punti per lo sblocco di queste quattro tipologie di abilità. Poi abbiamo equipaggiamento. Equipaggiamento ed elementi estetici sono due cose totalmente differenti. A differenza, diciamo, di un gioco di ruolo dove indossando magari un'armatura cambia l'aspetto del personaggio e conferisce allo stesso tempo dei bonus, in Marvel's Avengers il team di sviluppo ha optato per due cose completamente diverse. In elementi estetici vi sono le skin che possono essere ottenute con le carte sfida di cui vi parlerò tra poco. Mentre in equipaggiamento ci sono appunto gli equipaggiamenti che non conferiscono assolutamente alcun aspetto estetico al personaggio. Quindi, diciamo, donano allo stesso soltanto dei bonus di vario tipo che possono essere potenziati. Quindi, con le risorse raccolte, avete la possibilità di potenziare il vostro equipaggiamento, smantellare quello inutile, sbloccarne ulteriori e così via dicendo. Ogni pezzo dell'equipaggiamento, come vedete, conferisce particolari bonus. Quindi, gli equipaggiamenti non sono estetici, quindi, diciamo, conferiscono al personaggio soltanto delle agevolazioni, mentre gli elementi estetici sono delle vere e proprie skin. Poi abbiamo collezioni che sono i fumetti. I fumetti vanno completati non solo per una questione di collezionismo, ma perché conferiscono, come in questo caso, resistenza agli stati, quindi dei piccoli bonus che potrebbero tornarvi utili. Su carta sfida, invece, abbiamo una sorta di pass, che è sempre gratis. Attenzione, non è a pagamento. Con le sfide giornaliere e quelle settimanali, guadagnate dei punti che vi permettono di livellare. Livellando, potete avere queste ricompense gratuite che variano, ovviamente, scusate, di personaggio in personaggio. Quindi ogni eroe ha i suoi 100 livelli e possono essere, diciamo, ottenuti sia giocando, quindi man mano che livellate avete accesso a nuove ricompense, che acquistandole con, diciamo, la valuta di gioco. Ora, qui ci sono 40 livelli, ma probabilmente perché si tratta di una beta, non lo sappiamo, tecnicamente dovrebbero essere 100 come il pass. Quindi, con la valuta che accumulate, potete sia acquistare i vari livelli senza dover attendere di raggiungerli, sia le ricompense presenti, gli oggetti presenti, diciamo, nel negozio di inizio gioco, come vi ho mostrato. Quindi c'è veramente tanto, tanto da fare, tanto da sbloccare, tanto da ottenere in Marvel's Avengers. Sostanzialmente questa è la struttura di gioco. Le missioni sono singole, individuali. Non sono in un mondo aperto, non è un open world. Alcune missioni sono all'interno di strutture chiuse. Altre missioni, come questa, vi permettono di esplorare, diciamo, l'esterno in una mappa grande, ma non abbastanza. Quindi, diciamo, sono sfide individuali. Ogni sfida vi offre diverse ricompense e diversi gradi di sfida, come potete vedere. E ogni sfida, ovviamente, aumenta la potenza dei nemici. E, di conseguenza, vi pone di fronte alla vostra potenza e la potenza dei nemici. Quindi fa un confronto. Ad esempio, nel mio caso, selezionando anche il livello facile, mi dice che i nemici sono più potenti, cioè, sono più potenti o meno potenti di un certo numero di volte. In questo caso, io, diciamo, sono due livelli sopra i nemici. Quindi ho più probabilità di completare la missione senza problemi. Ma se seleziono un livello di difficoltà più alto, ovviamente, poi, la missione cambia e qui mi dice guarda che sei sotto 11 livelli. Quindi le prenderei di santa ragione. Le missioni sono diverse. Ci sono missioni di ogni tipo. Dalle missioni dove bisogna eliminare dei bersagli, come vi ho detto, a quelle dove dovete distruggere determinati, diciamo, elementi presenti nello scenario. Dovete conquistare le posizioni. Insomma, ci sono diverse missioni che potete portare a termine. E ogni missione, come vi ho detto, vi ricompensa con diversi oggetti o risorse. Ora, nelle missioni chiuse, diciamo, c'è poco da esplorare. Ma se prendete una missione tipo questa, e adesso ve la mostro, avete la possibilità di esplorare lo scenario in cerca di forzieri. E i forzieri contengono materiali, utili, equipaggiamenti, punti e quanto altro ancora. Potete giocare fino a quattro giocatori online oppure utilizzare i bot. Personalmente online non ho avuto molta fortuna perché mi riscontra sempre un problema. Inizialmente avrete tutti gli eroi, successivamente però la beta si riduce a questi quattro eroi. Quindi mancano all'appello Thor e Capitana America. Poi, dopo il rilascio del gioco, verranno distribuiti gratis, a partire dal prossimo anno, nuovi eroi come Spider-Man. In esclusiva PS4 barra PS5. Quindi, se prenotate il gioco su PS4, PS5, o se lo acquistate, comunque se giocate su console PlayStation, avete la possibilità di giocare dal 2021, si spera, nei panni di Spider-Man e altri eroi. Che saranno accessibili su tutte le piattaforme. Tranne Spider-Man e il pacchetto esclusivo, come sempre, PlayStation Plus, contenente, diciamo, delle ricompense extra per coloro che optano per la versione PS4. Ora, nella beta io mi sono imbattuto in un paio di bug e in questi caricamenti davvero infiniti. Ma, per quanto riguarda i cali di framerate, non ci sono assolutamente problemi. Il titolo si comporta egregiamente e sfoggia un comparto grafico davvero ottimo, considerando che è la versione console. Ora, la PS4 Pro, come sapete, è pronta al decollo, con titoli abbastanza calibrati, cioè, con titoli la cui grafica è abbastanza pompata, per farvi capire. Io ho applicato, diciamo, la pasta termica alla console, ma nonostante questo la PS4 comunque fa abbastanza rumore, quindi magari potrebbe infastidirvi alla lunga. Spero, anzi, sono sicuro che su PS5 non ci saranno questi problemi. Allora, come vedete, in questa missione avete la possibilità di esplorare i dintorni in uno scenario non generosamente grande, ma abbastanza, insomma. Potete divertirvi ad andare in giro in cerca di forzieri, attività secondarie, missioni, cioè, scusate, missioni nemici da sconfiggere, quindi potete anche dedicarvi a qualcosa di secondario e non alla missione principale. Alcune missioni, invece, diciamo, sono all'interno di edifici, quindi c'è ben poco da esplorare. Il sistema di combattimento è molto reattivo, vedete, è molto fluido, potete contare su diverse abilità che ovviamente variano a seconda dell'eroe e avete fino a tre, diciamo, abilità particolari da utilizzare una volta che sono cariche. Potete in qualsiasi momento avere sotto controllo la barra vitale dei vostri compagni di squadra, oltre che la vostra, e, diciamo, aiutare i vostri compagni se sono stati atterrati. L'intelligenza artificiale si comporta abbastanza bene, non è stupida, cioè si comporta bene a seconda poi della difficoltà che avete scelto, quindi vi aiuta, non è che magari fate tutto voi, quindi, diciamo, sostanzialmente, anche se è un gioco concepito principalmente per il multiplayer, potete farlo anche da soli, quindi vi accompagnano i bot, quindi potete giocare anche da soli. Adesso vi mostro come mi aiutano, praticamente, vedete, io sono stato atterrato, perché sto giocando alla Carlone, come si suol dire, e, diciamo, i bot vi aiutano. Ora, io ho selezionato la massima difficoltà, per questo, diciamo, i nemici sono più forti, perché sono, tipo, una decina di livelli più alti di me, del personaggio, ovviamente, perché ogni personaggio ha il suo livello, non avete un livello unico, quindi se con Iron Man avete, magari, il livello 40, e con Hulk 1, se giocate con Iron Man, ovviamente, siete potenti. Se giocate con Hulk, no, a seconda, ovviamente, della difficoltà. Questo è tutto quello che avevo da dirvi per quanto riguarda Marvel's Avengers, per qualsiasi dubbio, chiarimento o altro, non esitate a lasciare un commento.